E' un veterinario. Ma prima di tutto lo stile dell'uomo si vede anche sulla bestia. Poi sai, a noi donne intellettuali piacciono questi brandotype, questi muscle boy. Ma che vuoi dire? Fusti, mamma. Non è che un piccolo cocktail. Dove sono le pazienti, per favore? Eccole. Tristano e Zotto sono due amori. Stanno sempre così bene, ma oggi sono così rigide. Veda lei, dottore, se si può fare qualcosa. Ma ti cuccole, docter Vavugherira. Allora, allora. Non è che un piccolo cocktail. Dove sono le pazienti, per favore? Eccole. Tristano e Zotto sono due amori. Stanno sempre così bene, ma oggi sono così rigide. Veda lei, dottore, se può fare qualche cosa. Ma petit coccole, docter Vavugherira. Allora, allora, allora. спiscii. Ok, allora. Ciao. Ciao.